La partita di Coppa abbiamo dato un bel segnale e siamo arrivati pronti a questa partita per quanto riguarda la mia posizione dove vengo schierato cerco di dare il meglio di me stesso anche se ho fatto la maggior parte delle volte soltanto il tre quarti soltanto poche volte la mezzala però diciamo che serviva un segnale secondo me dopo Imola l'abbiamo dato e oggi abbiamo dato anche un'altra dimostrazione di forza e dobbiamo continuare su questo passo e allenarci bene e arrivare pronti la domenica Ho avuto la fortuna di stare a Monza dove la concorrenza era alta e lo stesso è qua quindi non è una cosa che mi spaventa è normale che ci sia concorrenza in una squadra che punta a vincere la accettiamo e cerco di fare il meglio e sempre farmi trovare pronto Mi sento di dire questa cosa però cerco di allenarmi forte e riuscire a farmi trovare pronto Oggi l'assiste, il prossimo obiettivo Sì, diciamo che mi manca però cerchiamo di fare il meglio l'importante è che la squadra porti a casa il risultato Sì, diciamo che la squadra porti a casa il risultato